Inizio con l'indicare quali saranno le tappe di questo mio percorso di presentazione del tema. Il primo argomento sarà la ripresa dell'idea teologica dei semi del verbo, il secondo argomento ma che cosa ha detto effettivamente Giustino su questo argomento, poi completamente l'integrazione del suo insegnamento che noi troviamo in Cirillo Alessandrino e in Ireneo di Lione, perché tutti e tre in realtà hanno influito sulla dottrina del Vaticano II. Qual è stato l'apporto al Vaticano II e quindi in che cosa il Vaticano II ha fatto passi in avanti, perché di fatto così è stato. E quindi cercherò di concludere con l'illustrazione delle categorie teologiche, io ne ho scelto almeno tre, che fanno da supporto all'indicazione, all'orientamento del Vaticano II. e sono la prima il piano universale di salvezza per tutti gli uomini, la seconda è il concetto di alleanza, e la terza il senso religioso e l'esperienza religiosa come categoria teologica. La ripresa dell'idea teologica dei semi del verbo. A cinquant'anni dal Vaticano II si può affermare che la dottrina patristica del logos spermaticos, o secondo la versione latina dei seminaverbi, è stata la leva concettuale per affrontare in modo diretto, inedito, teologicamente motivato e dedicato al rapporto della Chiesa Cattolica con le religioni e con le culture. In realtà già nel II secolo era stata avviata, grazie ai contributi di Giustino, di Ireneo di Lione e di Clemente Alessandrino, una teologia del verbo di Dio, aperta alla comprensione del bene e della verità al di fuori della tradizione biblica, che purtroppo non ha avuto seguito per tutto l'ampio arco temporale fino al XX secolo. L'immagine del seme utilizzata a Giustino è particolarmente felice, perché riesce ad esprimere l'idea dell'azione diffusa di Dio nel mondo, anche oltre i confini visibili del cristianesimo. I semi del verbo sono un concetto immagine, che per quanto riguarda la metafora del seme si ispira alla parabola narrata da Gesù sulla parola di Dio, sparsa come i semi nel campo, che riceve accoglienza ed effetti differenti in corrispondenza del tipo di ricezione. Matteo 13 Per quanto attiene al termine logos, possiamo dire che il significato in prima battuta è quello che gli veniva attribuito dal pensiero stoico, come principio vivente, attivo, fondamento razionale della realtà, e subito dopo aggiungere l'utilizzazione del vocabolo che fa il prologo del Vangelo di Giovanni per denominare la seconda persona della Trinità. Così la chiara derivazione stoica dell'idea di logos si è incontrata con il contenuto fortemente teologico dell'insegnamento del verbo di Dio contenuto nel Vangelo di Giovanni. Rimane il rammarico nel constatare che una visione dottrinale scaturita dalla fonte biblica originaria, primordiale del logos di cui parla appunto il prologo di Giovanni possa essere caduta nell'oblio per così lungo tempo. Eppure l'affermazione che il verbo era da sempre la luce vera, quella che illumina ogni uomo, ha continuato ad echeggiare nella proclamazione del Vangelo di Giovanni, nella liturgia e nella predicazione, nel corso di tutti i secoli. Ma che cosa ha detto veramente Giustino? All'origine della dottrina dei semi del verbo di Giustino c'è la domanda implicita che espliciterei in questi termini. Che relazione ha Dio con coloro che sono vissuti prima dell'incarnazione del logos eterno in Gesù Cristo? Così ripone la questione della salvezza degli uomini che sono vissuti prima della nascita di Gesù Cristo. Infatti, considerata la centralità e la necessità del verbo incarnato, la loro situazione potrebbe essere considerata estranea a qualunque tipo di azione divina e quindi i loro comportamenti e le loro convinzioni, anche se sbagliati, non sarebbero attribuibili alla loro responsabilità. La risposta di Giustino è che Dio ha avuto a che fare con loro da sempre, attraverso il logos spermaticos. Alcuni di loro possono averlo ascoltato e così hanno potuto seguire il vero e operare il bene e sono da considerare, a suo avviso, cristiani antelitteram. Altri possono aver vissuto in contrasto con il logos e quindi hanno agito contro la verità e contro il bene. Già queste considerazioni mettono in luce che la dottrina dei semi del verbo è decisamente un argomento di carattere teologico perché implica la spiegazione e l'interpretazione della dottrina cristiana della salvezza. Infatti solleva con coraggio la questione del destino salvifico di chi non è battezzato ed indirettamente accenna al senso delle filosofie, quella grega innanzitutto, e delle altre tradizioni religiose, primo fra tutti l'ebraismo, preesistenti e contemporanei o contemporanei all'evento fondatore del mistero divino rivelato in Cristo e contemporanei agli inizi del cristianesimo. È merito in dubbio di Giustino di aver introdotto un concetto originale derivato dal pensiero filosofico del suo tempo e da aver così avviato una riflessione che ancora oggi continua e ancora oggi appassiona. Ha scritto uno dei più recenti commentatori delle due opologie tradotta in italiano recentemente e la traduzione italiana delle due opere tratta dalle surs-cretienne. Il concetto di logos seminale, questo studioso è Charles Binié, sviluppato da Giustino per entrare in dialogo con la filosofia del suo tempo, gli appartiene improprio. È il primo scrittore cristiano che l'ha utilizzato aprendo così alla religione di Cristo vaste prospettive e non solo verso la filosofia antica ma più in generale verso le più diverse culture se è vero che tutte partecipano dell'unico logos divino. Come noi sappiamo il logos per gli stoici era il principio di intelligenza razionale, era l'origine del cosmo, era il principio normativo etico. Così lo descrive in sintesi Giovanni Reale. Il mondo e le cose del mondo nascono dall'immanente logos che è esso pure uno, eppure capace di differenziarsi nelle infinite cose. Il logos è come il seme di tutte le cose, è come un seme che contiene molti semi, spermaticoi logoi, che i latini tradurranno con l'espressione raziones seminales. Senza la pretesa di presentare in forma completa il pensiero di Giustino su questo argomento mi limito a ricordare alcune chiare affermazioni sulle quali si basa la sua dottrina. Innanzitutto il riconoscimento del radicamento nella struttura umana del rapporto con il logos divino. Scrive Gli stoici hanno stabilito in morale dei principi giusti. I poeti ne hanno parlato poiché il seme del verbo spermatulogu è innato amphiton in tutto il genere umano. Un tale riconoscimento dell'azione estensiva dell'azione di Dio a favore degli uomini non è comunque indeterminata, uniforme, ma caratterizzata da un'inequivocabile differenza tra ciò che è donato completamente ad alcuni e ciò che è dato parzialmente a tutti. Scrive Ciascuno di loro infatti vedendo parzialmente catameros ciò che è imparentato al verbo divino e seminato da lui ha potuto parlare bene, ma contraddicendo loro stessi nei punti essenziali essi mostrano che non hanno una scienza superiore e una conoscenza irrefutabile perché hanno una conoscenza parziale, aurorale, incoativa e poco più avanti precisa con lucida spiegazione gli scrittori hanno potuto vedere oscuramente la verità grazie al seme del verbo che è stato posto in loro ma altra cosa è possedere un seme e una somiglianza proporzionale alle proprie facoltà altra cosa la realtà stessa la cui partecipazione e imitazione questo è un passaggio importantissimo procedono dalla grazia che viene da lui e da tenere presente e questo è un altro punto decisivo che Giustino distingue tra il Logos Spermaticos e i semi del Logos il Logos insemina le intelligenze degli uomini e dà così una conoscenza parziale iniziale di ciò che soltanto il verbo incarnato porterà a perfezione l'oggetto e la norma della verità in tal modo conosciuta sarà sempre il verbo stesso la conseguenza è che per quanto egli abbia alta stima del pensiero filosofico praticamente è stato discepolo di tutte le più grandi scuole filosofiche del tempo aristotelismo platonismo e ovviamente toicismo considera la fede cristiana superiore al pensiero filosofico perché a suo avviso è la vera filosofia scrive è dunque evidente che la nostra dottrina supera ogni umana dottrina perché il principio razionale integrale è divenuto il Cristo apparso per noi corpo ragione e anima non c'è da dimenticare comunque che come tutti i padri della Chiesa cominciando da questi primi ecologisti del secondo secolo Giustino ha apertamente condannato le false dottrine del paganesimo ad esempio la venerazione degli animali le degenerazioni morali praticate in alcuni culti che non esita a definire opera dei demoni come anche condanna l'idolatria e il politeismo in sintesi si potrebbe dire che secondo Giustino il logos è partecipato agli uomini in forme diverse anche se la sua manifestazione completa si attua nell'incarnazione del figlio di Dio ed è all'origine della fede cristiana infatti afferma coloro che hanno vissuto secondo il verbo sono cristiani pur essendo passati per atei come presso i greci Socrate Eraclito e i loro simili e presso i barbari cioè i non greci Abramo Anania Azzaria Misele Elia e tanti altri di cui sarebbe troppo lungo citare qui le azioni e i nomi c'è da parte sua una chiara intenzione di riconoscere anche un significato a ciò che non è propriamente cristiano ma non per questo estraneo al logos divino il logos si rivolge anche a uomini che non appartengono alla tradizione ebraico-cristiana liberi di accogliere il logos liberi di rifiutarlo Cirillo Alessandrino è passo all'ulteriore considerazione e i reneo di Lione danno alla dottrina dei semi del verbo una configurazione verificabile e una concretezza particolari che non possono essere trascurati anche perché è proprio con il loro apporto che l'insegnamento dei semi del verbo entra nella dottrina del Vaticano secondo innanzitutto dico qualcosa ovviamente sarò estremamente stringato nell'illustrare alcuni tratti di questi due pati della Chiesa qualcosa di Cirillo Alessandrino è per noi decisivo e fondamentale perché ha orientato subito l'attenzione verso la sapienza dei popoli il verbo si manifesta ai saggi ai sapienti dei popoli e i popoli a cui penso sono i popoli che sono lontani dall'area alla quale noi siamo abituati a pensare sono dell'Oriente è questa sapienza che è preesistente alla nascita del pensiero greco che di fatto rispetto a loro è nuova ed è recente ed è debiterice di questo non mi noto su questo argomento ma accenno soltanto all'uso che Platone fa dei miti quando non era in grado con la ragione di dare spiegazioni per esempio la reincarnazione una dottrina che non viene dalla tradizione mediterranea questa sapienza antica ha stimolato una prima via di conoscenza e di verità proprio per un'azione di Dio che ha prodotto il pensiero greco ma questa prima pedagogia deve essere anche affiancata secondo Cirillo Alessantrino dall'altra pedagogia che Dio ha aperto con la legge mosaica due sono le istruzioni che Dio ha offerto agli uomini partendo dalla sapienza dei popoli il pensiero greco e la legge mosaica e la frase che più di altre del suo pensiero è passata scritta del Gistromata che è poi una miscellanea è la seguente la filosofia questa cosa utile è fiorita nei tempi antichi presso i barbari manifestandosi secondo le razze e più tardi essa è venuta presso i greci coloro che vi precedono sono i profeti d'Egitto i caldei d'Assiria i druidi della Gallia i filosofi dei Celti i magi di Persia i gimnosofisti dell'India e ancora altri filosofi barbari che formano due famiglie i Sarmani e i Bramani sentite questo passaggio vi sono pure in India coloro che obbediscono ai precetti di Buddha il contributo di Ireneo di Lione alla questione del rapporto tra mondo cristiano non cristiano e rivelazione cristiana come voi sapete passa per la famosa dottrina delle alleanze quattro sono gli aspetti degli esseri quadriforme è il Vangelo e quadriforme è il carattere del figlio di Dio per cui furono dati quattro testamenti alleanze diateche al genere umano uno prima della caduta di Adamo uno dopo il diluvio al tempo di Noè il terzo era la legge di Mosè il quarto è quello del Vangelo di Gesù Cristo l'intento è di disegnare l'azione che il verbo compie nella vicenda umana per manifestare il padre la preoccupazione di Ireneo era quella di contrastare nel libro contro le eresie di contrastare l'avanzare dell'ognosticismo che interiorizzava tutto e attribuiva soltanto all'animo umano l'avvicinarsi alla divinità a Dio e anche a Dio rivelato e invece Ireneo calca moltissimo la realtà degli interventi storici di Dio dall'inizio dell'umanità e interventi che trovano il punto apicale e più solenne nell'incarnazione del verbo chiaramente le prime due alleanze quella della creazione e quella con Noè hanno un carattere universale perché riguardano tutti gli uomini che sono in tal modo raggiunti dall'azione di Dio l'alleanza con Israele riguarda il popolo predetto ma anche essa dimostra la volontà di Dio di essere presente nella storia dell'uomo prima dell'incarnazione del verbo l'alleanza nel figlio incarnato è incomparabilmente superiore alle altre non solo le supera e le compedia ma introduce una inaudita novità scrive Reneo sappiate che egli ha portato una novità totale portando se stesso che era stato annunciato omnem novitatem attolit seipsum afferens la riflessione di Reneo ha fornito la base teologica per un'interpretazione biblicamente fondata dell'azione di Dio attraverso il suo verbo in tutti i momenti della storia per concludere questa rapida rassegna delle posizioni di giustino come pure dei contributi di Cirillo e di Reneo possiamo osservare che pur non avendo preso in considerazione direttamente le religioni tuttavia essi hanno posto le basi per un approfondimento finalizzato a comprendere il posto delle tradizioni religiose nel disegno storico salvifico dell'intera umanità le loro considerazioni dimostrano che il cristianesimo fin dai suoi inizi ha visto nella sapienza religiosa degli antichi e della tradizione ebraica precorrimenti adombramenti frammenti di verità che potevano essere in qualche modo assimilati e trasfigurati della rivelazione cristiana ovviamente depurati degli aspetti erronei palesemente magici o disumanizzanti ma la risposta che essi hanno potuto appena impostare è divenuta l'invito in una situazione storica come la nostra totalmente diversa ad attribuire tutto il suo rilievo estensivo e universale all'azione del verbo incarnato morto e risorto perché in realtà solamente nel verbo nel mistero del verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo Gaudium Espes numero 22 appunto e quanto ha fatto il concilio Vaticano II e passiamo a considerare che cosa hanno detto i Vescovi in questo concilio per quanto il tema è esplicitamente introdotto nella dichiarazione ad Gentes il decreto per le missioni appare con tutta evidenza che esso è sotto traccia e presupposto nelle indicazioni riguardanti il rapporto della Chiesa con le religioni e con le culture dei popoli contenute i passaggi di altri documenti lumen gentium nostra etate attraverso un vigoroso dibattito i Vescovi al Vaticano II sono passati da una considerazione del particolare e unico rapporto con l'ebraismo fondato sull'alleanza con Dio mai revocata perché come scrive San Paolo i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili sono passati alla spiegazione delle religioni delle relazioni con le religioni del mondo e l'idea dei segni del verbo è stata la chiave semantica e concettuale utilizzata per affrontare la problematica al concilio e anche come lo sarà successivamente nell'insegnamento magisteriale dei papi fino ad oggi fino ad oggi intendo fino a Papa Francesco come poi avrò modo di dirvi l'espressione è chiaramente presente in Argentes numero 11 dove viene affermato tutti i cristiani debbano conoscere bene le tradizioni nazionali e religiose degli altri lieti di scoprire e pronti a rispettare quei germi del verbo in latino seminaverbi che vi si trovano nascosti d'altra parte anche dove non è letteralmente riferita ad essa si fa chiara allusione ad esempio sempre lo stesso documento al numero 9 dove si riconosce la presenza di elementi di verità e di grazia quid quid veritatis et grazia capite che le parole non sono casuali né omiletiche veritatis et grazia quid quid ma veritatis et grazia al di fuori della chiesa visibile e viene spiegato che questo avviene testo dice così per una nascosta presenza di Dio in mezzo ai pagani per una nascosta presenza di Dio in mezzo ai pagani così tutto il suo rilevo teologico è riconosciuta negli uomini una relazione con Dio capace di favorire la conoscenza della verità e di spingere le persone a compiere il bene cerco di non fermarmi a tutti i passaggi in cui è presente l'allusione a questo tema e procedo su questo fondamento si basa il rapporto in qualche modo possibile con il patrimonio religioso etico razionale degli ambienti umani destinati all'annuncio di Gesù Cristo è pur vero che le culture dei popoli considerate nei loro moltiplici aspetti costituiscono dei mondi all'interno dei quali coesistono luci ed ombre atti valori e situazioni negative ma è consapevolezza ribadita dal Vaticano secondo anche in Argentes ma non solo in Argentes che sono da purificare alla luce del Vangelo in alcune espressioni e realizzazioni senza per questo dubitare che elementi positivi siano presenti in esse la Chiesa accoglie tutte le ricchezze le risorse le forme di vita dei popoli in ciò che esse hanno di buono e accogliendole le purifica le consolida e le eleva troviamo una conferma di questo anche nella nostra etate l'insegnamento conciliare cerco di riassumere tutto in realtà è proposto sinteticamente da un documento successivo della Santa Sede che è intitolato l'atteggiamento della Chiesa di fronte ai seguaci di altre religioni nelle tradizioni religiose non cristiane esistono cose vere e buone ciascuna di queste frasi è contenuta in un documento del Vaticano II cose preziose religiose e umane germi di contemplazione elementi di verità e di grazia semi del verbo raggi della verità che illumina tutti gli uomini secondo continua secondo esplicite indicazioni conciliari questi valori si trovano condensati nelle grandi tradizioni religiose dell'umanità esse meritano perciò l'attenzione e la stima dei cristiani e il loro patrimonio spirituale è un efficace invito al dialogo non solo su elementi convergenti ma anche su quelli che divergono si ritiene che il concilio abbia esteso il senso delle affermazioni dei padri al di là delle loro intenzioni anche recenti studi di patologia sembrano confermare questa interpretazione che sarebbe i padri a cui ho appena accennato sosterrebbero l'azione del verbo sui saggi sugli uomini molto indirettamente sulle culture sulle tradizioni e sulle religioni ciò comunque al di là del dibattito tra i patrologi non costituisce in sé una constatazione negativa rimarca rimarca soltanto e lo fanno notare gli stessi interpreti gli stessi patrologi che di fatto questa come ogni dottrina cattolica proposta può portare nel tempo ad una più profonda comprensione organica del messaggio rivelato il Vaticano II ha convalidato il cambio di passo avvenuto nel frattempo nella teologia ispirandosi all'antico principio di Gregorio Magno reso famoso da Ruperto di Deutz divina eloquia con leggente cresconto più accostiamo la scrittura più riusciamo a comprendere meglio il messaggio che ci è stato comunicato di fatto ha introdotto un punto di vista insolito per la teologia dell'età moderna che aveva accantonato la considerazione della storia degli uomini nella presentazione della fede cristiana perché come ha spiegato a ride di Bach nei tempi moderni sotto l'azione di cause numerose e assai complesse la teologia delle scuole aveva finito per allontanarsi oltre misura non soltanto dal mondo storico espositivo ma da qualsiasi attenzione alla storia cadendo sempre di più in una specie di astrazione a temporale e al di fuori del tempo l'impulso costante alla realizzazione di questo compito è stato offerto ed è tuttora dato dalla presentazione ricorrente del tema dei semi del verbo da parte del Magistero Pontificio sia attraverso indicazioni contenute nelle encicliche sia attraverso interventi dei papi in occasioni diverse rapidamente vi dico che Evangeli denunzianti dice usa esplicitamente l'espressione semi del verbo in due luoghi Giovanni Paolo II il redentore smissio in tre paragrafi dell'enciclica e una volta in verità di splendor e poi in diciotto discorsi svolti nel tempo durante il suo pontificato anche Papa Francesco ha utilizzato l'espressione una volta in Evangelica Audium una volta nella nota 80 al numero 99 e due volte nella Moris Letizia tre almeno come vi ho accennato all'inizio ripaiano essere le considerazioni teologiche che fondano l'allargamento della posizione dei padri del secondo secolo avvenuta nel Vaticano II e continuano ad impegnare ancora oggi la ricerca teologica intorno alla collocazione del senso religioso dell'uomo e del significato delle religioni che è poi il compito della teologia delle religioni e questi tre argomenti almeno questi ce ne potrebbero essere altri ma ho fatto una scelta il piano divino di salvezza degli uomini la diffusione del regno di Dio e la realtà della Chiesa il senso di Dio e l'esperienza religiosa il primo il tema della storia della salvezza è entrato solo nella seconda metà del secolo scorso in campo teologico e anche in ambito magisteriale proviene dall'elaborazione teologica protestante Henri de Luivac ritiene che sia circolato in ambienti protestanti della Germania già nella seconda metà del XIX secolo ora il Vaticano secondo con risolutezza afferma che al fondo della storia della salvezza c'è un disegno universale di Dio a favore di tutta l'umanità per esempio in Agentes 3 afferma questo piano universale di Dio per la salvezza del genere umano non si attua soltanto in una maniera per così dire segreta nell'animo degli uomini solo i saggi e i sapienti ma anche nelle iniziative anche religiose con una nota di curiosità vi faccio notare che proprio in questo paragrafo ed esattamente nella nota 8 si riferiscono a questo proposito due affermazioni di Ireneo la prima il verbo esistente presso di Dio per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose e che era sempre vicino al genere umano la seconda infatti il figlio vicino fin dall'inizio alla sua creatura rivela il padre a tutti quelli che il padre che il padre vuole quando vuole e come vuole il piano di salvezza può essere illustrato in due modi il primo modo ovviamente sono due modi complementari che si arricchiscono a vicenda il primo modo quello di vedere una storia della salvezza generale che riguarda tutta l'umanità senza eccezioni e una storia particolare della salvezza che trova il suo inizio nell'alleanza con il popolo ebraico e nella sua destinazione non soltanto all'elezione ma anche alla comunicazione universale della salvezza ma riceve il suo compimento ultimo e definitivo soltanto nell'evento di Cristo cioè nella rivelazione cristiana l'altro modo per intendere la storia della salvezza come qualcosa che deriva più propriamente sia dalla ispirazione biblica che dalla ispirazione patristica è che esiste un'economia sapienziale della salvezza rivolta a tutti gli uomini e poi esiste un'economia invece più specifica della salvezza che riguarda quella della storia ebraico-cristiana quella ebraica nel suo momento trova il fulco nell'esodo quella cristiana nel nuovo testamento attraverso il mistero pasquale di Cristo morto e risorto quindi all'interno della storia generale della salvezza che coincide con la storia del mondo si incastona la storia particolare di Israele e della Chiesa in questa prospettiva e questa è la prima conclusione che trago da questo presupposto e questa categoria teologica la posizione delle manifestazioni religiose dell'umanità sia nelle forme personali che nelle espressioni collettive risulta decisamente connessa con l'agire di Dio ovviamente soltanto nelle forme autentiche e non già nelle degenerazioni spurie la diffusione del regno di Dio e la realtà della Chiesa il regno di Dio è il riflesso della presenza divina che entra in correlazione con la libertà umana ma che nel medesimo tempo mantiene il carattere di insuperabile alterità di ineliminabile trascendenza è il segno dell'eterno nel tempo il concetto di regno di Dio è da sviluppare più di quanto non si è stato fatto finora diciamo che è assente dalla predicazione è quasi totalmente assente nella catechesi e nell'insegnamento della fede cattolica del resto la stessa dichiarazione Dominus Iesus precisa che le forme di espressione di questa categoria presenti nell'antica e nel nuovo testamento dovrebbero essere chiarite regno dei cieli regno di Dio regno di Cristo noi predicatori facciamo molto sforzo nel trovare una via quando dobbiamo spiegare il senso di questo nelle omelie della domenica indubbiamente il fondamento del regno è il verbo di Dio incarnato in Gesù Cristo Egli Signore Maestro è la chiave il centro il fine di tutta la storia umana è fuori di ogni dubbio che Gesù ha annunciato il regno di Dio il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino convertitevi credete al Vangelo lo ha fatto fin dall'inizio della sua predicazione e ha continuato a farlo costantemente ha scritto Paolo VI nell'Evangelio Ennuziandi Evangelizzatore il Cristo annunzia prima di tutto il regno il regno di Dio il quale è tanto importante rispetto a lui che tutto diventa il resto che è dato in aggiunta solo il regno è dunque assoluto e rende relativa ogni altra cosa la sua persona e il suo messaggio hanno conferito all'azione sovrana appunto regale di Dio la possibilità di manifestarsi nella storia in forma esplicita e completa per quanto destinata a compiersi attraverso il succedersi delle generazioni dell'umanità in prospettiva finale escatologica con la sua seconda venuta quando egli riconsegnerà il regno al padre comunque la relazione a Cristo è la ragione e il fondamento sia del regno di Dio che della Chiesa tra Chiesa e regno di Dio esiste un rapporto circolare da parte sua la Chiesa è il luogo manifestativo dell'attuarsi visibile del regno ne è il germe ne è l'inizio rappresenta di fatto il massimo grado di concentrazione storica possibile della presenza di Cristo nel mondo ne è il sacramento primordiale dal quale ogni altra forma simbolica di espressione dell'azione del Cristo Redentore e anche altrove si valuta si giudica alla luce della sua autenticità religiosa è come un archetipo unico impareggiabile mentre da parte sua il regno di Dio conferisce all'identità e alla missione della Chiesa la sua rilevanza universale la sua prospettiva estensiva perché la Chiesa non esaurisce in se stessa la finalità per la quale è stata fondata ma vive ed opera per la diffusione del regno di Dio e per riconoscere l'azione gratuita al di là dei suoi confini si può affermare che la categoria teologica di regno di Dio offre il contesto comune all'interno del quale è possibile pensare insieme la Chiesa le religioni le culture pur mantenendo ben chiare le differenze di valore e di ruolo di ciascuna di esse all'interno del piano salvifico universale passo all'ultimo punto la religiosità e le religioni costituiscono per la teologia cattolica aspetti dell'umanità che meritano ben più del semplice rispetto peraltro concesso dal volta con riserva a causa delle deformazioni che possono aver presentato in passato e a cui possono essere soggetto soggette ancora oggi il senso religioso l'apertura al sacro e l'orientamento verso l'infinito e l'assoluto è segnalato in termini marcati con l'affermazione di Gaudium Spes la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo dove egli è solo con Dio la cui voce risuona nell'intimità è vero che il contesto si riferisce alla coscienza morale ma non da meno indica l'orientamento verso il divino della struttura essenziale dell'essere umano ha scritto Joseph Ratzinger ciò che porta gli uomini verso Dio è la dinamica della coscienza e della silenziosa presenza di Dio in essa se al passo della Gaudium Spes si affianca quanto già troviamo scritto sulla libertà religiosa nella dichiarazione dignità disumane allora si riceve una valida conferma il diritto alla libertà religiosa non si fonda su una disposizione soggettiva della persona ma sulla sua stessa natura che come prima ha spiegato è la dignità della persona umana nel documento citato comunque c'è da aggiungere che la presentazione della libertà religiosa riguarda sia l'aspetto personale e intimo vale a dire la religiosità intesa come l'insieme delle convinzioni personali legate alla fede in un principio assoluto di carattere sacro e salvifico sia le manifestazioni pubbliche ed esteriori organizzative culturali e dottrinali scrive la stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religione comunichi con gli altri in materia religiosa professi la propria religione in modo comunitario bisogna dire che la categoria di esperienza religiosa è entrata in teologia soltanto dopo aver superato severe difficoltà soltanto da pochi anni il suo significato teologico è stato messo a tema fattori storici e culturali ne hanno ritardato lo studio e il dibattito è accaduto nell'ambito della teologia della riforma in seguito alla netta critica e alla vigorosa opposizione di Karl Barth alle posizioni della teologia liberale che avanzavano interpretazioni suggestive e positive sul significato delle manifestazioni religiose ma in qualche modo e questo era effettivamente il loro limite riducendo la missione del Cristo a prototipo archetipo della coscienza di Dio nello spirito umano in campo cattolico la vicenda del contrasto al modernismo ha portato tutto questo è avvenuto poco più poco meno di un secolo fa in campo cattolico la vicenda del contrasto al modernismo ha portato sia alla condanna di alcune posizioni caratterizzate da cadute soggettivistiche sia al rifiuto purtroppo pregiudiziale del ruolo della coscienza nella religiosità dell'uomo e soprattutto nella fede cattolica tanto per poter darvi soltanto un'indicazione per confermare come questo ridardo è in effetti dannoso mi ricordo che dopo l'elezione a Papa di Benedetto XVI è stato pubblicato un piccolo volume che raccoglie tutti i suoi scritti sulla coscienza intitolato l'elogio della coscienza quindi c'è una consapevolezza teologica ormai da anni matura che non ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente adesso ovviamente sta cercando di farlo a mio avviso in teologia l'ambito di studio dell'esperienza religiosa è l'antropologia teologica che è anche il compito di illustrare alla luce della rinnovazione cristiana la visione dell'uomo che segue un'altra religione e di chi è al di fuori dell'orizzonte della fede in Cristo e dell'appartenenza alla Chiesa noi non abbiamo ancora avuto la possibilità il tempo il desiderio la curiosità di definire qual è lo statuto antropologico del non battezzato alla luce della rivelazione cristiana è un compito che ci sta davanti in effetti la categoria di esperienza religiosa contribuisce in modo rilevante all'elaborazione di una più chiara determinazione delle manifestazioni religiose autentiche come pure della loro differenza rispetto alla fede cristiana lo spessore della riflessione teologica a questo tema è data innanzitutto dall'insegnamento biblico sull'origine dell'uomo e Dio disse facciamo l'uomo a nostre immagini a nostra somiglianza non faccio un commento a questo leggo soltanto una frase famosissima di di Reneo di Lione che suona così la gloria di Dio è l'uomo vivente la vita dell'uomo è la visione di Dio se è vera una tale relazione di somiglianza con Dio di carattere personale nell'ordine creativo per le ricatute esplicative che ha sul senso religioso dell'uomo allora esse inevitabilmente a rilevo anche nell'ordine della redenzione perché lo stesso è Dio creatore e Dio redentore addirittura nella liturgia noi preghiamo in un prefazio rivolti al Padre nel Cristo tuo direttissimo figlio hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai fatto rinascere a vita nuova così Dio nella sua azione a favore di tutti di tutti gli uomini ribadisce ad un livello superiore quanto ha realizzato nell'ordine della creazione per portarlo a compimento seppure la natura dell'uomo è ferita e indebolita dalle conseguenze della caduta dei progenitori tuttavia mantiene la capacità del bene e della verità e della verità ho ancora tempo sì che si deve parlare della possibilità di relazione a Cristo in forma analoga a quella dei cristiani anche al di fuori dei confini visibili della Chiesa seppur non è consapevole né esplicita perché l'uomo ogni uomo senza eccezione alcuna è stato redento da Cristo perché con l'uomo ciascun uomo senza eccezione alcuna Cristo è in qualche modo unito anche quando quell'uomo non è di ciò consapevole Giovanni Paolo II Redentor Ominis numero 14 Encilica Programmatica del Pontificato per motivi di chiarezza si può dire che l'aggettivo cristiano segnala l'azione divina nella Chiesa mentre cristico indica gli effetti redentivi al di fuori di essa di fatto la relazione illuminante e salvifica di Cristo con ogni uomo costituisce una certezza teologica dalla quale non si può prescindere a meno che non si voglia seppur che le più oneste intenzioni ridurre l'efficacia universale della redenzione attuata in pienezza attraverso l'evento Cristo per concludere direi che il concilio e il magistero completando e attualizzando alcune idee teologiche dei padri della Chiesa del secondo secolo sono giunti ad affermare che le religioni e le tradizioni religiose non sono soltanto effetti di un'iniziativa dell'uomo caratterizzate dalla ricerca del sacro dall'anelito alla trascendenza ma anche risposte ad un'azione perenne divina con modalità che solo Dio conosce realizzate in modi diversi secondo le circostanze le situazioni con effetti inevitabili sulle culture e sulle tradizioni dei popoli tutto questo come ho cercato di fare risulta fondato su alcuni presupposti teologici grazie ai quali è possibile affermare che l'azione di Dio a favore degli uomini al di fuori della chiesa è in qualche modo la risposta al bisogno di trascendenza in definitiva alla ricerca del senso della vita da parte di ogni uomo tuttavia è da ricordare con chiarezza che l'agire di Dio in questo ambito non è equiparabile in tutto e per tutto alla dinamica della fede cristiana infatti rimane sempre certo e vero che soltanto l'accoglienza della rivelazione cristiana da origine alla fede in Cristo che colloca i cristiani in una posizione certamente speciale privilegiata ma voglio precisare anche carica di più gravi responsabilità etiche sociali e culturali di testimonianza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti